Il calciatore della Nazionale Federico Bernardeschi possiede uno stabilimento balneare a cui è stata fatta una multa salatissima. Ecco il motivo del provvedimento. Abbiamo seguito con molta passione e attenzione Federico Bernardeschi durante gli europei di calcio dai quali l'Italia è uscita vincitrice. Tuttavia, alcuni giocatori, come ad esempio proprio lui, sono anche protagonisti del gossip e non solo. Federico, infatti, dopo la vittoria dell'Italia a Wimbledon si è sposato con la sua Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello, e ha fatto molto discutere per il look sfoggiato per l'occasione. Ma lui è anche proprietario di uno stabilimento balneare. Nelle scorse ore i carabinieri hanno fatto una multa salatissima alla sua attività per aver trovato undici lavoratori in nero. Ma ecco qui di seguito i dettagli di quello che è accaduto. Oltre a Campione d'Europa, Federico è anche proprietario della Mare Oli Beach di Massacarrara. Durante un evento serale i carabinieri hanno effettuato dei controlli e hanno trovato undici lavoratori in nero. Dunque, è scattata una multa di 41.600 euro, a quanto di legge sui giornali. Tuttavia, pare che la società proprietaria sia intervenuta subito per spiegare che si trattava di un evento privato indipendente e che gli undici lavoratori non avevano a che fare con loro, ma con chi aveva organizzato l'evento. Inoltre, vuole far sapere che la multa non è così salata come è trapelato. Non solo. In una nota si legge che Bernardeschi non è assolutamente coinvolto in questo episodio, che i dipendenti dello stabilimento sono soltanto quelli trovati con regolare contratto di lavoro. Per gli altri bisogna far riferimento al committente privato che ha fornito il personale e guidato la serata. Infine, sembra che, al contrario di quello che si diceva in queste ore nel web, lo stabilimento non è per niente chiuso, ma sta continuando con la sua regolare attività. Quien Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix for film. Grazie a tutti. Grazie a tutti.